I lavoratori detti alla menza scolastica incrociano le braccia. Lo hanno fatto questa mattina nei pressi del secondo circolo comprensivo alla presenza dei sindacalisti della CGL e della Guilla che seguono l'avvertenza sin dalle prime battute. Due mensilità e tredicesima non ancora versate dall'azienda Sierche che si è giudicata l'appalto per la menza scolastica nell'ottobre scorso e che gestisce lo stesso servizio per l'azienda sanitaria provinciale, laddove sussistono problemi analoghi ma per situazioni diverse. Un appalto di 1.800.000 euro, 33 le unità senza stipendio. L'avvertenza ha origine dal mancato pagamento da parte dell'azienda titolare dell'appalto di refezione scolastica del comune di Corigliano Rossano, Sierche e S.P.A., che nonostante sia partito da pochissimo, perché è dal 21 ottobre che l'appalto è partito, ha pagato solo pochi giorni del mese di ottobre. Siamo fortemente preoccupati perché se questo è l'inizio dell'appalto durerà tre anni, insomma i lavoratori non possono stare in queste condizioni, sono lavoratori part-time, monoreddito, che vivono di questo salario, che guadagnano pochi soldi e se abbiamo cominciato così abbiamo cominciato male. Di quante unità parliamo? 33 unità di base che storicamente da almeno 25-30 anni svolgono questo servizio da prima nel comune di Rossano e adesso nel comune unito di Corigliano Rossano. L'azienda come motiva questi ritardati pagamenti? L'azienda l'abbiamo incontrata ieri mattina in prefettura per la vicenda del comune di Cosenza che è in dissesto, motiva adducendo circa 2 milioni di euro dai vari enti perché è un'azienda grande che ha in appalto tantissimi enti della provincia di Cosenza a partire dall'ASP, che è quella che credo abbia la situazione debitore più importante, ma qui ripeto siamo all'inizio dell'appalto, quindi qua si è firmato il contratto da poco e siamo già a due o tre mensilità di ritardo nel pagamento, questo per noi non è accettabile. Come pensa se ne posso uscire? Ma noi abbiamo visto ieri pomeriggio il sindaco che ha inteso convocare una riunione alle 3 dove purtroppo l'azienda non si è presentata e quindi noi stamattina abbiamo detto ed effettuato con i lavoratori una prima giornata di sciopero, per legge ne possiamo effettuare altre 2 con 10 giorni di preavviso, io mi auguro che il senso di responsabilità della Sierca a questo punto sia di venire nel comune di Rossani, incontrare le parti sociali, i lavoratori dinanzi al sindaco e trovare una soluzione al problema, se ci riusciremo. Nel caso in cui stesse perdurare qual è la linea del sindacato? Come ha annunciato prima noi oggi non abbiamo garantito il servizio, abbiamo rispettato le comunicazioni di legge, se l'azienda continua a non pagare e addirittura nel datteggiamento erogante neanche incontrarci come ha fatto ieri pomeriggio noi proclameremo altri 2 giorni di sciopero. Cosa significa, quali sono gli effetti che si producono nel sospendere il servizio? Noi cogliamo l'occasione per dire ai genitori, ai bambini, ai docenti che siamo dispiaciuti di non poter assicurare, ma loro capiranno certamente che se dopo 30 anni i lavoratori non garantiscono il servizio per una giornata e mettono in difficoltà le scuole e il comune, i genitori sicuramente non è perché non vogliono lavorare ma perché non sono stati pagati e vivono di questo stipendio, questo l'azienda lo deve capire e si deve sedere al tavolo. Questa riflessione scolastica, mentre un problema analogo sussiste anche nei presidi ospedalieri, qui a che punto siamo? Sì, come dicevo prima, ieri in prefettura l'azienda ha quantificato in circa un milione di euro, se non ricordo male, il credito che c'è dall'aspio, lì la situazione è più complicata perché gli ospedali della provincia sono molti, i lavoratori sono molti di più, abbiamo una diatriba in essere che ormai sta per diventare di natura provinciale se non regionale e lì aspettiamo l'insediamento del nuovo commissario governativo a seguito del decreto Calabria per intavolare una discussione che salvaguardi anche quei lavoratori che hanno tutto il diritto di essere salvaguardati perché anche lì abbiamo lavoratori part time, monoreddito che versano in condizioni di non facilità. In questo caso l'ente appaltante è l'ASP, invece per quanto riguarda la mensa scolastica è l'ente comune Corriano di Rossano, l'azienda vanta crediti nei confronti del comune? Ma questo non l'abbiamo capito, francamente perché c'è stato credo un ritardo nel contratto sottoscritto e quindi non so, faccio l'avvocato ovviamente non saprei quantificare adesso i giorni e quant'altro, però so che l'appalto è partito il 21 ottobre e che l'azienda deve anticipare i primi mesi come è normale che sia in tutti gli appalti, quindi la gravità della situazione è qui che siamo appena partiti e già siamo in ritardo per i lavoratori, tra il comune e l'azienda io auspico il tavolo anche con noi o anche tra di loro, senza di noi per quanto riguarda le questioni di fatturazione e quant'altro. La disperazione dei lavoratori si tocca con mano. Del mese di novembre, noi non abbiamo lo stipendio e neanche la tredicesima, io purtroppo per problemi di salute che non mi hanno chiesto due mesi se mi cambiavano di mansione, per problemi che è alle braccia perché da noi non c'è neanche la lavastoviglie, mi ho dovuto mettere in aspettativa, non retribuita, almeno riesco a riposarmi un pochino, che dobbiamo fare. Si è rivolta ai sindacati? Si, sono rivolta ai sindacati, ma non c'è stata nessuna, mi hanno detto mettiti due paia di guanti e lavori lo stesso, perché io ho due ore e mezza di lavoro, ma il pentolame comunque è tanto, non ci sono lavastoviglie, non ci sono asciugatrici, non ci sono lavapavimenti, non c'è niente. Lei che contratto? Io ho il contratto a tempo indeterminato. Part time, full time? Due ore e mezza di lavoro al giorno. E sono quelli che fa realmente? Sono? Sono le ore che fa realmente? Sì, 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 no, come ore sì, sì. Sposata, con figli? Sì, c'ho due maschi e sono anche piena di debiti perché abbiamo comprato una casa, e anzi, dato che ci sono, se vuoi ti faccio vedere anche il messaggio che mi è arrivato dalla banca. Questo è il mio messaggio della banca che risulta insoluto il pagamento sul mio conto corrente. E in più ci devo pagare anche 30 euro di mora. Questo è tutto grazie alla mia azienda, che io l'amavo, è un lavoro che veramente facevo con il cuore. Ma ora siamo proprio all'esasperazione. Come è trascorso il Natale? Male. Per la prima volta che sono sposata da 20 anni non ho fatto neanche una calza ai miei figli. È la prima volta. È la prima volta. Signora, lei è sposata, figli? Certo, io ho quattro figli, di cui una mi va alle superiori. Ripeto come prima, ad oggi mia figlia non ha potuta andare a scuola perché va a Corigliano, quindi non ho i soldi per mandarla a scuola a mia figlia. Niente, da premettere che abbiamo iniziato il 21 di ottobre, e già ci ha creato problemi dal primo mese, per pochissimi euro perché le giornate sono state poche ad ottobre. Ad oggi non abbiamo percepito lo stipendio. Premetto che noi lavoriamo solo sei mesi all'anno, gli altri sei mesi siamo a casa disoccupati, perché la legge non ci permette con la sospensione di soffrire della disoccupazione della cassa integrazione. Niente, con questa ditta sono tre anni che se andiamo avanti così veramente va non so dove andiamo a finire. Premetto che sono quasi 20 anni che siamo in questo settore e con le altre ditte non abbiamo avuto mai problemi, mai. E tantomeno ce lo saremmo aspettati dalla SIARC, perché poteva essere una delle prime. E niente, che dire, ci sono colleghe che non possiamo andare a lavorare per benzina, che scade l'assicurazione, a me l'assicurazione mi scade lunedì. e veda la dottoressa che ci venga incontro, anzi la ditta fantasma, e che ci venga incontro perché faccia qualche passo indietro e che se ne vada. Se non ce la fa, se ne vada. Almeno si mette una mano sulla coscienza e ci aiuta in questo. Si può ritirare benissimo. E niente, la situazione a tutt'oggi è questa. Ci saranno altri scioperi. Prenderemo altri provvedimenti, faremo un decreto ingiuntivo, se ci può aiutare quello. Voglio ringraziare il sindaco e l'amministrazione che in questi giorni ci è stato vicino, ci ha spiegato tante cose, ma anche il signor sindaco si è reso conto, tutta l'amministrazione che non si può ragionare che è un soggetto simile. È un muro praticamente, un fantasma, e lei ne può fregare di meno dei dipendenti. Quindi dottoressa la invito a venirci incontro e a mettersi una mano sulla coscienza e uscire da questa situazione. Tanto bene per lei e per noi. Si chiede dunque la rescissione del contratto. Noi abbiamo fatto una valutazione più complessiva, una ricognizione più alta, che abbiamo, parlando con il Vesino, l'abbiamo esposta a livello verbale. Il Vesino ce l'ha chiesto a livello formale per iscritto e l'abbiamo fatto. Secondo noi ci sono alcune situazioni del capitolato d'appalto che non viene rispettato di questa azienda e quindi noi chiediamo all'amministrazione comunale per conto dei lavoratori che se ci sono le condizioni amministrative di recedere il contratto. perché in questo modo, diciamo, in primo mese di stipendi che dobbiamo pagare che è il mese di novembre, tra l'asciante e il mese di ottobre che sono soltanto 9 giorni di pagamento che ha pagato per il rivelo. Quindi deve pagare adesso novembre, dicembre e tredicesimo per i mese di dodicesimo che rispettano. Se dobbiamo pensare che un'azienda che deve anticipare gli stipendi ai lavoratori così come previsto da capitolato non rispetta gli impegni e quindi non rispetta neanche il contratto con il servizio lavoro che è comunque obbligata a rispettare. Queste sono condizioni che il comune e quindi l'amministrazione volteranno se possono essere le condizioni per una recessione del contratto. Di quale ipotesi di violazione stiamo parlando? Beh, per esempio nella proposta tecnica che ha fatto la stessa azienda prevedeva un'ex nuova assunzione che non l'ha fatto ha fatto forse un paio di assunzioni perché cosa fa l'azienda? Utilizza il lavoratore dell'ospedale della mensa ospedaliere e li manda a lavorare per l'appalto della mensa scorsa che sono due cose diverse che non potrebbe fare anche giuridicamente. Il problema è che prevedeva 9 fulgone per la distribuzione del cibo e invece sono soltanto 3 o forse adesso sono diventati 4. Ci sono una serie di situazioni il controllo del del cibo che dà la qualità diciamo che alcune mamme ci hanno detto che non è un'eccellenza ci sono alcuni prodotti che sono previsti da capitolato altri invece che non sono previsti queste comunque sono le cose che ci hanno detto i genitori noi non abbiamo fatto una verifica specifica noi direttamente quindi parliamo per quello che ci hanno ci hanno detto dalle sue impressioni che tipo di evoluzione avrà questa vertenza guarda questo è che oggi è il primo giorno di sciopero così come previsto dalle normative da qui a 10 giorni programmeremo altri due giorni di sciopero perché è impensabile che l'azienda ci ha comunicato ieri o l'altro ieri adesso non ricordo bene una ci ha comunicato che forse paga gli stipendi di novembre per fine mese in sostanza tenendo conto che non ci ha detto quanto paga anche il mese di dicembre siccome il contratto prevede che successivamente al mese corrente dovremo pagare entro i primi 10 giorni del mese successivo cosa che lei non fa mai si è tendato più volte di fare anche in sede di Convintusto degli accordi di elasticità rispetto ai pagamenti che per esempio dovremo pagare dal 15 al 18 ma non si verifica mai una cosa del genere si paga sempre successivamente alla data che lei ci ha indicato quindi diventa veramente una cosa insostenibile per tre anni fare una cosa del genere diventa veramente faticosa grazie a tutti